Dicevo, arriva una notizia, una notizia importante, secondo noi interessante che dà anche il senso di quanto noi sappiamo essere intelligenti, a differenza di chi magari oggi voleva di nuovo rompere delle teste. Mentre noi siamo qua, mentre assistiamo allo schieramento di polizie carabinieri da sette antisommossa, a Serravalle sono cadute tutte le reti del terzo valico! E quindi, di oggi, di oggi volevo di nuovo rompere delle teste, andremo a casa con la mare in bocca! Andiamo a casa con queste reti abbattute e col cantiere di Serravalle dove non c'è più niente in piedi! Andiamo a tornare con calma al nostro presidio e festeggiare questa giornata! Devi dire, domenica tutti a passione, poi invece tutti a passione!